Raffaella Neri, studentessa dell'alberghiero Santa Marta di Pesaro, ha collezionato un prestigioso terzo posto nella competizione dedicata alla realizzazione di cocktail all'interno dei tanti riconoscimenti assegnati nel 35esimo concorso internazionale AEHT tenutosi nei giorni scorsi a Senigallia con un importante appendice a Pesaro. Città e istituto che vengono insegnati di un premio di pregio a corredo di giornate già estremamente gratificanti per l'istituto Santa Marta. Già perché il concorso internazionale AEHT rappresenta la competizione didattica annuale fra istituti alberghieri d'Europa e ha avuto in Pesaro, Senigallia e nelle Marche il baricentro di questa vetrina continentale. Ogni anno questa manifestazione si svolge in una città europea, di uno Stato europeo e quest'anno è toccata l'Italia e in particolare l'istituto Pansini di Senigallia che ospita questo evento. Noi però siamo un istituto alberghiero e tutti gli alberghieri sono uniti in questa cosa, quindi soprattutto quelli marchigiani si sono messi insieme per dare un contributo e collaborare per la perfetta riuscita di questa manifestazione. A coordinare il progetto è stata la professoressa Antonella Donadei, un progetto che ha collocato nel 21 ottobre, una giornata libera da gare per i tanti studenti accorsi nelle Marche dal resto d'Italia ed Europa. La città di Pesaro, assieme a quelle di Cingoli, Loreto e San Benedetto del Tronto, sono state le mete di un viaggio esplorativo nelle realtà regionali legate ad un approfondimento turistico come quello offerto dalla prossima Capitale della Cultura 2024. Questa giornata noi abbiamo deciso di dedicarla a far apprezzare le realtà del luogo, quindi in particolare abbiamo usato Pesaro come centro principale e Pesaro, però ovviamente abbiamo parlato di tutte le ricchezze e di tutto quello che ci può essere nella provincia, a cominciare anche dalle specialità, siamo un alberghiero e non gastronomiche. A questo proposito volevo ringraziare una serie di persone e anche di enti che hanno dato la possibilità, ho già detto del preside Rossini che ha dato la disponibilità della location e anche della visita della scuola, perché comunque è una scuola, ma è un monumento, è Villa Caprile, è anche una scuola dove c'è una cantina, ci sono tante cose che agli studenti di un istituto alberghiero sono molto importanti a vedere, la produzione insomma. Però volevo anche ringraziare in particolare il direttore provinciale della Confcommercio, il dottor Amerigo Varotti, per il suo contributo a sostenere le spese, perché ci sono spese, ci sono state, quindi molto volentieri ha accettato questo, ringrazio anche il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini.